Ultimi dubbi per la composizione della lista della PD e delle altre al sostegno di Vincenzo De Luca nel Salernitano. Entro la prossima settimana il quadro dovrebbe chiarirsi definitivamente. Se appaiono certe le candidature di Anna Petrone e Gina Fusco, ancora qualche incertezza ci sarebbe per Teresa Vastola. Se dovesse rinunciare, al suo posto entrerebbe Pisapia vicina a Valiante. Sicuro di un posto donato pica, mentre continua il ballottaggio, Conte russomando da un lato e Fiore Picarone dall'altro con Cascone spostato in campania libera. Nessun dubbio poi anche per i sindaci come Amabile e Dalfieri, almeno secondo Nicola Landolfi. Quando arriva il momento di stringere, di fare la campagna elettorale e di recuperare consenso noi siamo abituati a complicarci la vita. Al di là di queste complicazioni noi andiamo avanti nella costruzione di una lista che è ampiamente nota, lo schema è conosciuto, ci sarà qualche probabilmente ulteriore variazione che riguarderà in particolare la componente femminile e credo che siamo nelle condizioni nella prossima settimana anche di approvarla nell'Assemblea Provinciale. Siamo in conclusione? Sì, siamo in dirittura d'arrivo anche con le altre liste legate al Presidente che in qualche modo stiamo seguendo anche come partito.